Un consiglio comunale straordinario per discutere della situazione in cui versa la società in-house Silvi Servizi SRL a richiederlo i consiglieri di opposizione del Comune di Silvi. Dopo la questione caro rifiuti a stimolare questa richiesta sono le ultime vicende che hanno interessato la società. Il cambio dell'amministratore Angela Angelozzi al posto di Gaetano De Amicis, la grave situazione debitoria, oltre 400 mila euro, soprattutto il reclutamento del personale tramite un'agenzia interinale con sede a Pescara E' assolutamente preoccupante, dicono le minoranze in una nota, la superficialità dell'amministrazione comunale che nel 2007 aveva garantito la salvaguardia occupazionale per i dipendenti della ex cooperativa Futura Umano, mentre oggi non solo in molti non hanno più garantito il lavoro, ma l'assunzione tramite agenzia interinale ha introdotto il sottoprecariato per tanti dipendenti con contratti part-time streaming city in termini di orario e con servizi alla collettività, vedi accompagnatori autobus, sempre più scadenti. E vista la pesante posizione debitoria che ricade sulle spalle dei cittadini, le opposizioni chiedono chiarezza all'amministrazione nella sede istituzionale.